Il treno regionale, 21-3-3-5, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 4, è in partenza dal binario 10. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia. Il treno regionale, 21-3-0-5, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 6 e 05, è in partenza dal binario 10. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Lamalfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Isola delle Fendine, Carini Torre Ciacchea, Carini, Pira in Eto. Il treno regionale, 12-6-7-7, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 6 e 35, è in partenza dal binario 10. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Carini. Il treno regionale, 21-3-1-3, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 10 e 05, è in partenza dal binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Lamalfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Isola delle Fendine, Carini Torre Ciacchea, Carini, Pira in Eto. Il treno regionale, 12-6-9-7, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 16 e 35, è in partenza dal binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Carini. Il treno regionale, 21-3-2-9, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 18 e 05, è in partenza dal binario 9. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Lamalfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Isola delle Fendine, Carini Torre Ciacchea, Carini, Pira in Eto. Il treno regionale, 26-7-4-1, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 21 e 35, è in partenza dal binario 9. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Carini. Il treno regionale, 26-7-3-7, di Trenitalia, per aeroporto di Punta Raisi, delle ore 22 e 09, è in partenza dal binario 9. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notar Bartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo Colli, Carini. Il treno regionale, 26-2-7-8, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 5 e 15, è in partenza dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piraineto, Carini, Carini Torre Ciacchea, Isola delle Fendine, Palermo Sferracavallo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Cardillo, Palermo Lamalfa, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 26-7-3-2, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 6 e 27, è in partenza dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carini, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 21-3-1-0, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 8 e 42, è in partenza dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piraineto, Carini, Carini Torre Ciacchea, Isola delle Fendine, Palermo Sferracavallo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Cardillo, Palermo Lamalfa, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 12-6-8-6, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 12 e 27, è in partenza dal binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carini, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 21-3-2-4, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 15 e 42, è in partenza dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piraineto, Carini, Carini Torre Ciacchea, Isola delle Fendine, Palermo Sferracavallo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Cardillo, Palermo Lamalfa, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 21-3-2-4, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 18 e 27, è in partenza dal binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Carini, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 21-3-3-6, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 21 e 42, è in partenza dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piraineto, Carini, Carini Torre Ciacchea, Isola delle Fendine, Palermo Sferracavallo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Cardillo, Palermo Lamalfa, Palermo San Lorenzo Colli, Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Il treno regionale, 26-7-4-8, di Trenitalia, per Palermo Centrale, delle ore 0 e 25, è in partenza dal binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palermo Francia, Palermo Notar Bartolo, Palermo Lolli, Palazzo Reale Orleans, Palermo Vespri, Palermo Guadagna. Ferma a Palermo Lolli, 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 Palermo Grazie a tutti.